Il mister si esce dalla sosta, dopo tre vittorie, bisogna ripartire con quella cattiveria, intensità, attenzione, immagino che sia questo ciò che chiedi. Sì, sì, dimentichiamo le tre vittorie, facciamo un passo indietro, torniamo all'umiltà di quando siamo usciti con un pareggio da San Donino e quella deve essere la cattiveria che poi ci ha accompagnato dopo e non dobbiamo perderla, quello deve essere il nostro punto di partenza ogni volta che si rigioca, non dobbiamo pensare di essere diventati bravi, non lo siamo diventati, abbiamo fatto un buon percorso ma deve essere solo l'inizio, quindi molto concentrati e molto determinati. L'avversario ha una squadra costruita per stare in alto, che invece è lì in basso, ha il quarto migliore attacco soprattutto a Gobbi, ti chiedo come si affronta Sant'Angelo che è forte davanti ma coincide dietro e se hai preparato qualcosa di speciale per Gobbi, avete appena affrontato anche il formato che è un giocatore simile per pericolosità. Sì sì, loro hanno tre giocatori, secondo me molto bravi davanti quattro anzi, però penso che partiranno con Gobbi, Mariani e Lanzi che è comunque un 2004 di grandissima prospettiva, hanno un attacco importantissimo, hanno un attacco e un centrocampo votato alla fase offensiva perché Gomez e Mecca sono due giocatori sicuramente di spinta, concedono qualcosa dietro, quindi è chiaro, Vince sicuramente visto che ci sono due attacchi molto forti che si affrontano, è molto importante stare nella loro metà campo, se stanno nella loro metà campo è chiaro che stimoliamo di più il discorso del nostro attacco contro la loro difesa che può e deve averla meglio. La sosta è servita anche per mettere benzina nel gambe di Tentoni, Rossi, Beretta, fare entrare un po' più nei meccanismi di Gervino, ci fai un po' il punto su questi tre? Sì sì, sono tre giocatori ma ci metto anche Arrondini, Rossi, Tentoni, Beretta, Gervino, sono giocatori che hanno fatto una crescita in questo periodo e quindi sono a disposizione, sono tutti, devono essere tutti in valore aggiunto. Abbiamo fino ad oggi determinato veramente molto poco dalla panchina e questo è quello che mi aspetto da oggi in avanti visto che c'è la possibilità di scegliere e visto che sappiamo l'importanza degli ultimi 30 minuti di tutte le partite.